che è arrivato molto sotto traccia secondo me a gennaio, che secondo me sta offrendo un rendimento molto, molto positivo, che si chiama Jacoponi, che è un ragazzo che a me sta piacendo tantissimo, sia come servo che come sembrale difensivo. Non ti chiedo se la squadra è più forte adesso di come l'ha incontrata ad Agosto, quando sei arrivato è sicuramente più forte adesso, però ti chiedo questo, questa squadra non da un punto di vista tecnico, da un punto di vista mentale, un po' più i giocatori, cosa ha di più rispetto a quella iniziale, secondo te, se ha qualcosa di diverso da un punto di vista mentale, di personalità, o un po' un po' insieme, dai, comunque sapevamo che non era facile, quando sono arrivati i ragazzi a gennaio, non era facile comunque ripartire, mai chiamare i ragazzi del gruppo, quindi sono stati bravi loro, anche in questi stessi auguri ci portavamo insieme già ai tempi, a Colapelli, io non lo so, ma la scuola è in Polizia, insieme alla Coiopelli, il mio primo anno di... Santa Croce è Fullano, la Coiopelli. mànole c'è un...